E adesso erano 18 giorni di trasmissione continuata e quindi la fiacca, al di là dei primi minuti che abbiamo potuto ascoltare, iniziava ad avvenire poi durante le ore notturne, durante i giorni in cui non si vedeva nessuno, anche se però ricordo ancora che in quel lontano 82 c'erano proprio delle gite organizzate quasi per venire ad assistere in diretta a questo evento fantastico. E in quel tempo a Sergio piaceva in modo particolare una tua canzone, che poi è diventata la canzone che ti ha fatto conoscere un po' dappertutto. Devo dire anche una cosa, che grazie a Sergio ci siamo fatti pubblicità a tutti noi che all'epoca eravamo sconosciuti, quindi questo è un merito che dobbiamo darglielo a Sergio, in effetti all'epoca chi conosceva me nessuno, tanti altri erano ignorati, mentre poi grazie a lui ci siamo intrufolati, ecco non voglio usare dei termini un po' pesanti, però dobbiamo a lui anche se qualcuno di noi è riuscito ad arrivare dove è arrivato. Dovete pensare che lui senza avere i miliardi, senza avere i milioni, senza avere nessuno nelle spalle è diventato un grande personaggio, purtroppo soltanto per quell'epoca, poi è stato dimenticato non so perché, comunque questa sera siamo ottenuti per ricordarlo. Un applauso anche per Sergio, vai! E allora ci fai ascoltare quel brano che piaceva tanto? Sì, soltanto vi dovete insegnare tutti durante il tempo con le mani. Proviamo, uno, due, tre, via, vai con le mani, uno, due, uno, due. Bravi, andate avanti così per mezz'ora, vai, vai, più forte, uno, due. Tu perché non batti le mani? Mannaggia guai, mannaggia dai, mannaggia lo momento che a me è in guai, ai. Carissimi signori, state ad ascoltare quello che vi dico che è tutto originale. Anche il cane sta battendo le mani, le zampe. Spicciamo di mangiare, noi sappiamo c'è può fare, fiammo la bagnola e ne impegiamo a mare. Per noi non c'è mai crisi, ne facimo lì meglio risi, perché c'è l'upa va, cane passa lì tornisi. Mannaggia, vai, con le mani. Mannaggia dai, mannaggia lo momento che a me è in guai, ai. Mannaggia guai, mannaggia dai, mannaggia lo momento che a me è in guai, ai. L'upa è il vero e il progetto, è che a me è in guai, ai. Adesso fa spuoi, a casa e a me è in guai, ai. Ma tu mio caro amore, non ti preoccupare, che se non vado io mando te a lavorare. Mannaggia guai, mannaggia dai, mannaggia lo momento che a me è in guai. Gli dai un microfono al cane, eh? C'era il microfono, no? No? Che lingua parla? Dai con le mani. Mannaggia dai, mannaggia dai, mannaggia l'uomo che a me è in guai, ai. Mannaggia, vai, mannaggia...